Ok, buongiorno ragazzi, eccoci con Riccardo Trevisi e siamo a Vicenza. Sì, siamo a Vicenza in centro, noi abbiamo questo bellissimo negozio in centro a Vicenza, in centro storico precisamente, in Contravescovado, 14A, se per qualcuno può interessare. Non lo mettiamo in sovraimpressione. Un salone, ragazzi, parruccherando top selection, perché arredamento effetto wow quando si entra. Grazie. Poi vabbè, la grandissima professionalità, perché oggi abbiamo il piacere di avere un, io dico tecnico, anche se di fatto non è più proprio il tecnico. Non è proprio così. No, però le tecnici si rimane sempre, che poi di fatto nel corso della sua vita ha aperto il suo salone, quindi entrare in un salone dove c'è un tecnico è tanta tanta roba. Sì, sì, dai, ci divertiamo abbastanza, ci divertiamo. Ci divertiamo abbastanza. Ok, Riccardo, due parole su di te, come sei entrato in questo mondo, come ti sei avvicinato ai parrucchieri e diventare di fatto un riferimento poi. Allora, io ho sempre avuto e adorato l'estetica, ossia fin da quando ero piccolo. Diciamo che per me la cura del corpo, dei capelli, è sempre stato una cosa che guardavo da lontano, ovviamente, quando ero piccolo, però mi ha sempre appassionato. Iniziando a lavorare come parrucchiere, mi è sempre piaciuto sempre di più. Diciamo che non mi sono avvicinato io a Jean Paul Minet, ma è Jean Paul Minet che si è avvicinato a me. Ti ha cercato. Sì, praticamente io lavoravo in un salone, c'era il concessionario di zona che non conoscevo, che la salutiamo se posso. Assolutamente. La Stefania Tirone di Vicenza e mi vedeva lavorare. Allora, tramite il mio titolare, mi ha chiesto se potevo farli da trainer e lì ho accettato, non conoscendo Jean Paul Minet perché lo conoscevo veramente poco. E lì è iniziato proprio il mio mondo come tecnico. Abbiamo lavorato insieme, quindi quando non lavoravo in un salone facevo queste lezioni, diciamo, di colore e lì è proprio sempre andato avanti, sempre di più, sempre di più. E lì mi sono appassionato proprio nel mondo Jean Paul Minet. Ok, intanto ti chiedo subito che cos'è quella ruota magica che hai alla tua sinistra, Jean Paul Minet, cosa serve? Allora, Jean Paul Minet ha sempre sorpreso, diciamo, sia la clientela ma anche noi proprio parrucchieri. E questo è un effetto molto wow, diciamo, per pubblicizzare il Keratin Plus Empower, quindi shampoo, maschera e leave-in, in versione mini. Quindi l'ha fatto sia per avere un regalo, magari per fare un regalo, un po' per fare entrare nella, come dire, nel mondo Keratin, ma anche per chi magari va in viaggio. E quindi ha proposto questa mini versione con il loro beauty, sempre Jean Paul Minet. Leggo un regalo per te, no? A gift for you, quindi un regalo speciale per te. Un regalo speciale, assolutamente. Anche perché conosce Jean Paul Minet, tutti i prodotti sono speciali, a modo loro. Ecco, io oggi, visto che tu hai proprio, sei, lavori a strettissimo contatto con l'azienda, colgo l'occasione per farmi spiegare che differenza c'è tra Keratin Empower Plus e la Keratina. Ma io, scusa, mi perdonami, dico normale di Jean Paul Minet, che normale non è perché è una delle attende di riferimento per quanto riguarda questo tipo di prodotto. È la stessa cosa? È migliorata? Non c'entra nulla? Allora, non c'entra assolutamente nulla, nel senso che la laminazione, che è uscita da poco, è un mantenimento comunque a casa, nel senso che aiuta ad avere i capelli molto più settosi, a proteggerli dalle fonti di calore, che aiuta proprio a migliorare tutti gli aspetti del capello, quindi, e lo fa in un proprio, in un momento, in uno snap, praticamente. La Keratina, invece, è un trattamento comunque lisciante. Abbiamo vari tipi di Keratina, perché Jean Paul Minet è nata proprio con la Keratina, e lì andiamo, abbiamo un effetto comunque permanente, dai due mesi ai sei, dipende che servizio andiamo a fare. Ok, quindi adesso, quelli che vogliono quell'effetto specchio, quei capelli lucidi, così, adesso devono andare su lo snap. Assolutamente. Io, noi abbiamo una clientela che è appena uscito questo, l'abbiamo solo spruzzato senza neanche asciugarlelo, e mi fa dammene due, una a me e una a mia figlia, così. Solo per il profumo. Solo per il profumo, al quale si aggiunge un risultato, effetto wow. Eccezionale, assolutamente. L'effetto specchio che vediamo comunque sui social è pazzesco, assolutamente pazzesco. Ecco, quanto dura il trattamento, oppure che difficoltà ci vuole, ci vuole la piastra per attivarlo, poi, cioè, come funziona? Allora, assolutamente no, si può fare qualsiasi tipo di piega. Il bello della snap lamination è che è progressiva, nel senso che, man mano che si fa, va proprio a migliorare la fibra del capello, e lo vedi subito. Cioè, noi ce ne accorgiamo già dalla prima applicazione, che proprio migliora, e man mano che si fa, migliora sempre di più il capello. Quindi non è soltanto cosmetico. Vediamo la mano a fortificare il capello. Il capello, ok. Io intanto sto curiosando sul tuo Instagram, mentre tu parli. Sì, sì. E lo facciamo vedere, ragazzi, eccolo qua. Allora, io, cioè, non posso non notare, cioè, questo bianco. Cioè, com'è fatto? Allora, lì intanto si parte da una cura anche mantenitiva, anche a casa, nel senso che comunque, per avere un capello così lucido, per un colore così estremo, bisogna comunque curare il capello, perché sennò quella lucentezza non c'è assolutamente. Esatto. Perché qua si rischia anche poi di fare diventare le clienti come noi, no? Come tipo di acconciatura, per arrivare a un risultato così. Sì, è davvero complicato. Cosa possiamo dire alle ragazze che dicono, ah, voglio questa cosa qua, fammelo subito, entrano in salone, magari solo un due, un tre, un uno. Allora, noi ci rifutiamo altamente se non c'è la condizione per fare un lavoro del genere. Come vedi, c'è anche la foto, o comunque il video della ragazza che è davanti, è una ragazza del nord Europa, è una ragazza comunque del nord Europa, quindi è molto chiara. Ok, quindi avevi una base chiara di partenza. Sì, però qua abbiamo un bianco, bianco, cioè qua, eh? Ecco, sì. Tu calcola che lei viene da noi da due anni e fa sempre questo colore, quindi guarda che capelli che ha. No, li vedo proprio che sono sostenuti, sono pieni, non sono spenti, parlano da solo, vivono i capelli. Ecco, l'appunto in più è proprio la snap lamination, cioè quella lucentezza lì, ci siamo accorti che appena l'abbiamo iniziata a fare, è fantastica, è veloce, è istantanea, è pazzesca. Hai fatto diventare VIP, un servizio che era già di alto livello. Un servizio premium è diventato VIP. Assolutamente, assolutamente. Ecco, invece di questa... Vengono da noi con, magari per la prima volta, con capelli molto molto danneggiati e questo è il risultato come vanno fuori e sono molto molto scioccate anche loro. Anche loro. Allora, io poi, tanto curioso, guardo anche nel tuo sito, cioè anche il sito trasmette la qualità del salone, cioè con queste immagini, con questa comunicazione che tu hai scelto di fare. Vediamo, c'è una sezione nel sito, cosa facciamo, no, proprio, e scendendo su io leggo lifestyle, image consult, wedding lifestyle, quindi anche la sposa ha un ruolo molto importante, ma ogni taglio segue i dettami dell'ireconcept, quindi cioè è studiato su misura per ogni cliente, non è che prendi le forbici e tagli così. No, assolutamente. Per chi mi conosce, come clienti, di solito mi dicono fai, vai. Non azzardo mai se non conosco la persona, assolutamente, però andiamo proprio a fargli tantissime domande, perché il nostro lavoro è proprio questo, capire cosa valorizza per la persona. E poi anche proprio andiamo a ricercare, magari, andiamo a esaltare quello che è il viso, andiamo a esaltare proprio cos'è l'immagine della propria testa, diciamo. Ok, ecco, per entrare nel tuo salone, no, ci vuole un appuntamento, ovviamente, immagino che fai sempre una consulenza, no, cosa chiedono le donne, cioè cosa vogliono normalmente, gli errori che magari fanno? Allora, intanto arrivano con, magari, delle foto, dove abbiamo questa modella che ha i fari puntati davanti e li iniziamo a smorzare punto per punto, cioè questa lucentezza, sì, bellissima, calcola che questa è il faro puntato, ma poi le facciamo anche capire l'effetto, perché abbiamo anche noi questa lampada e dicevi, vedi, dovesse andare con la lampada così in giro. Ok. Quindi andiamo proprio a prendere certi determinati punti, a farli proprio capire quello che comunque va bene per lei e quello che secondo noi non è adatto a lei, quindi andiamo comunque a comunicare questo. Ti ascoltano? Sì, sì, assolutamente, ma anche proprio arrivano anche in cassa che mi dicono, beh, dammi tu quello che mi sai, e loro devono ascoltare noi, punto. Ok. Ok. In quanti siete in salone? Allora, in salone siamo in tre, ho due collaboratrici. Che li salutiamo? Sì, Anna e Ilenia, sì, assolutamente. Molto, molto brave a sopportarmi, perché sono molto esigente nel mio lavoro, assolutamente. Ok. Il uno, se potessi scegliere, oppure consigliare uno dei tuoi prodotti preferiti, uno dei tuoi trattamenti preferiti su cosa ti interessa, in questo periodo, in questo fine novembre? Eh, keratina, trattamento alla keratina di chat, è il nostro cavallo di battaglia, perché noi abbiamo anche gente che viene da fuori, abbiamo una cliente a Copenaghen, abbiamo una cliente che arriva a dicembre per fare la keratina dal Texas, che viene solo da noi a fare i capelli, assolutamente. E comunque a novembre le nebbie, l'umidità, keratina, cioè keratina a tutti. Assolutamente, un vero e proprio, una vera e propria magia per quanto riguarda i capelli delle persone, perché toglie questo effetto crespo, toglie tutta una serie di situazioni, risolve davvero tanto la giornata e il tempo, perché abbiamo davvero poco. Certo, e poi il fatto che comunque è una keratina di alta qualità, perché a me arrivano anche clienti che hanno, che non vogliono fare keratina, perché sono rimasti scioccati, magari in altri ambienti, con altri tipi di prodotti, dove arriva quel capello devastato, allora andiamo a riprenderlo un attimo con varie ricostruzioni, che il mondo Jean Paul Minet è molto ampio di questo, e poi andiamo, dopo un percorso, andiamo a rieffettuare una keratina e rimangono scioccate, sia dall'effetto, ma proprio della morbidezza, della tenuta. Come dire, c'è keratina e keratina. Assolutamente sì. E non dovete spaventarvi se all'inizio vi dicono di no, o rimanere un po' deluse, perché dovete dare prima al vostro style la possibilità di creare la tela perfetta, in modo tale che poi i prodotti funzionino. Assolutamente, assolutamente sì. Siamo specializzati comunque sul colore, nel senso che noi abbiamo, andiamo proprio a migliorare quello che c'è nel mondo colore, quello che magari le persone non sono abituate a vedere, come può essere la lucentezza, come può essere il cappello in sé, come rimane, e la durata proprio del colore, perché se il cappello non è sano, il colore comunque non ha tenuto. Non ha tenuto. Ma questa keratina, questa Empower keratina, si può mettere subito dopo un colore senza nessun problema, bisogna aspettare? Assolutamente è adatta per, dopo anche le colorazioni, noi lo usiamo molto anche proprio per le pieghe, con il leave-in, perché abbiamo due tipi di leave-in, abbiamo quello per capello liscio, quello per capello riso, e comunque ne lo mettiamo anche dopo un servizio colore assolutamente, non solo per la keratina. Ma ci vuole quel punto in più proprio da avere come conoscenza, e lì adesso diciamo che ogni colore che facciamo, all'inizio magari su una persona nuova sappiamo perfettamente come arriverà l'effetto finale, diciamo. Cosa che se non avessi fatto questo percorso Jean-Paul Minet, secondo me non sarei arrivato fino a qui. Fino a questo punto. Ok. I tuoi orari per venire da te in salone? Allora, noi siamo aperti dal martedì al sabato. Allora, il martedì facciamo dalle 9 alle 18, tutti i giorni, tranne che il giovedì che facciamo da mezzogiorno alle 20. Ok, quindi fate parte dell'arredamento in un certo senso. Ci siamo sempre qui dentro, assolutamente. E guai non esserci perché si lamentano anche di quello se magari saltiamo un giorno. Riccardo, un consiglio per le donne in questo autunno? Allora, un consiglio è intanto ascoltate il vostro hairstylist. Uno. Uno. E secondo, quello che dico sempre alle mie clienti, per favore curate i capelli perché ne hanno bisogno, assolutamente. E usate i prodotti giusti perché non ci vuole tanto, ci vuole il giusto e quello fa tanto. Ma secondo te, perché tante persone hanno i capelli, diciamo, in uno stato, diciamo trascurato, non voglio entrare... Però spesso si fa fatica anche a trovare modelli e corsi per fare vedere i prodotti. Cioè, spesso bisogna fare dei trattamenti di ricostruzione, tutta una serie di cose prima di poter fare altre cose. Ma come mai c'è questa cosa? Secondo me è una questione di priorità. Ci sono persone che danno priorità ad altro. Io personalmente, pur non avendo capelli comunque, do priorità all'estetica, assolutamente. Perché oggi come oggi è un mondo che l'abito fa il monaco e lo fa tanto. E quindi invece tante persone questa cosa magari non gli va bene o comunque non è la loro priorità nella vita. Assolutamente. E quindi, sì, assolutamente. Bisogna fare delle foto mentre camminano per strada, da dietro, no? Perché ci sono delle cose... Ma io le faccio con la testa e commento. E commenti, dici. Nella mia testa sempre, sì, sì, assolutamente. Ok, va bene. È stato un piacere muoverti qua e spero di venirti a trovare magari in presenza in uno dei miei viaggi. Va bene. Ok? Grazie mille. Assolutamente. Ciao Riccardo. Perfetto, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.